ragazzi faccio vedere un po che cosa ho fatto ho rifatto la tettoia come diciamo nella serie scorsa ho fatto la chest ho trovato l'anguria in giro va bene e mi sono fatto per velocizzare un po un incudine e tre fornaci per fare il ferro questo perché per permettermi di costruire il carretto il carretto ma si vede ragazzi la luminosità vabbè no vabbè un cavolo no si si vede dai il carretto che mi è servito per andare a trasportare la legna sostanzialmente tutto qua e ho fatto un po di legno un po di tavole vedete che ho fatto diversi tavoli e ho fatto anche queste per stoccare diciamo le tavole di legno e niente siamo prosti ragazzi per cominciare la nostra la costruzione di cose in questo episodio ma si può prendere vabbè in questo episodio ragazzi andremo a intanto cercare di costruire un po la nostra casetta o almeno iniziarla poi mancano le assi qua mancano qua cosa manca niente qua manca niente i tronchi ci stanno e qui qui però qua ci sono dappertutto penso allora facciamo una roba del genere credo che dovrei aggiungerli qua adesso ma vediamo ma cominciamo da a prendere qualche tavola aspettate però vorrei prima liberarmi l'inventario cioè per quanto posso liberarmi l'inventario perché qua vedete che la cassa è praticamente quasi piena a 100 al massimo che cavolo quindi questi non ci stanno maledizione però qua magari un sassetto eh vedi eh i sassetti ho un problema diciamo l'osso l'osso è solo l'osso però poi alla fine dei conti poi piume vuoi questo eh lo spazio ragazzi è quello che è maledizione c'è sta roba qua che mi occupa veramente un botto e io le tavole le vorrei mettere aspetta fatemi vedere se ci sta in questo eh no 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 allora facciamo una cosa del genere vabbè vaffanculo alle scusa posso please dare il mio zaino e metterci dentro queste sì ecco così abbiamo liberato un po dai eh sti semi vabbè i semi raga eh ci ho messo l'osso i semi i semi sono un problema possiamo metterli qua e questi possiamo metterli giù qua e il seme qua ok così almeno abbiamo posto per portare un po' di tavole vabbè piove è stato tanto per cambiare sto cacchio di gioco piove così ne prendiamo un po' tranquillamente prendere un bel po' di tavole è l'inventario pieno vedete non ce ne stanno tante mamma mia il tuono allora ma che tempo di merda ma perché delle volte c'è del cesto tempo vabbè poi ragazzi proviamo andare a registrare cioè a vedere se riusciamo a farci un arco prima di tutto e poi vediamo se riusciamo tipo a cacciare ah ma ho due tronchi qua e dicevo bene le assi le abbiamo finite vabbè ci prendiamo due tronchi li mettiamo la qui ok e prendiamo quante più possibili voilà cominciamo anche a prendere un po da qua vedrete che tutto il lavoro che mi sono preparato per fare questa cagata non basterà minima minimamente allora la stanza di due secondo me è più che sufficiente secondo me sì qui cosa i tronchi qua mancano ma va bene ma mancano ok secondo me la stanza iniziale di due di due ma sì dai di due ragazzi non è che stiamo qua a far che sa che mi serve un tetto prima possibile allora muro di legno credo che poi si possono upgradare con la pietra eccetera non lo so però penso che sì allora intanto ci facciamo il telaio per la porta il telaio per la porta in legno ragazzi aspettate un attimo la dovrei mettere qui giusto qui c'è questo poi si va di là sì dai poi qua ci facciamo di fianco ragazzi la fine stra e qua ci voglio mettere un'altra porta perché poi mi comunica era con l'altra stanza giusto vabbè e poi ci faccio la finestra che c'è una finestra che mi deve guardare assolutamente fuori qui una finestra qui ci sta dai ok e poi le mura le mura però io vorrei allora aspetta un attimo perché le mura è un poco più complicato e credo che ci siano anche le mura è esatto vedete interne quindi mettiamoci le mura esterne che questa è un è una parvenza di muro esterno vero sì ok questa provenza di muro esterno qui ci vuole il muro esterno che qui ok e da tutto aspetta un attimo questa no sì forse c'è anche il telaio interno per la porta yes perfetto e quindi ci mettiamo questo e poi solo muro interne a sto punto quindi andiamo qui e ci mettiamo il muro interno perché poi ragazzi qua c'è sarà comunicante capite che questa è solo la stanzetta iniziale no poi comunque procederà aspetta un attimo che non mi voglio andare a sbagliare e infatti io mi sono già no vabbè e 2 per 3 e 2 per 3 va bene ok adesso credo che per fare il tetto prima dobbiamo costruire un po di roba quindi mettiamoci un po cioè prendiamoci un po di tavole tanto queste sicuramente ci serviranno a bombissima qua e i tronchi anche raga vedete i tronchi saranno un bel problema perché quelli non ne ho abbastanza ah il muro interno servono un botto di assi cioè non è che cacchio marca miseria cioè il muro interno si fa sentire e poi comunque vabbè il telaio interno guarda quanta cacchio di roba che mi sembra ecco ora vabbè complimenti per il tempo cioè ah vabbè dai un po ce le abbiamo eh ste assi però ne vanno via come proprio il pane proprio sui maccheroni lì non era così ok asse 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 fatto 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 mancano solo i tronchi ok ragazzi andiamo prenderci un po di tronchi dove che mancava l'asse qua ok e andiamo prenderci i tronchi vabbè intanto finiamo quelli che abbiamo dove sono qua caccia la miseria puoi saltare per favore ah no non puoi saltare con i tronchi in braccio giustamente e anche il letto poi dovrei andarlo a spostare quindi aspetta un attimo come si fa a spostare le robe canci per rimuovere uso il letto n per spostare spostiamo il letto e direi che lo possiamo guarda questo letto per adesso me non puoi neanche mettere qua ecco perfetto poi queste qua le andremo a spostare in un futuro perché qui non mi piacciono per niente vabbè dato qua piove e noi praticamente avevamo detto f prevede cioè no f la g per vedere la salute il vigore e con la f vediamo proprio tutte le nostre statistiche io ragazzi mi sono magnato una di quelle robe che avevamo dall'inizio la specie di i due stufati di carne ma dovremmo dovremmo cercare di trovare quanto più possibile cose per sostentarci perché altrimenti ci moriamo male allora queste qua le prendiamo e vabbè ragazzi il problema è che qui le assi vabbè ok ah no ma non mi servivano adesso vabbè comunque i tronchi riusciamo comunque a portarsi dai allora prendiamo il carretto andiamo a fare un po' di legna giusto e qua se ne erano un po' però per il momento ragazzi lo prendiamo e andiamo forza comunque aspetta un attimo che metto giù questi nel frattempo ok e non fa un po di legna altro lì ci sono delle robe in giro da cacciare che però purtroppo che se quello un pollo è ma il pollo vedete che polleggia cioè polleggia il pollo io non riuscirò mai a prenderlo con la lancia perché il pollo polleggia un po come le api su raft che apeggiano qua il pollo polleggia e non riusciremo mai a corrigli dietro giusto mi servirebbe un arco caccia la miseria io con è troppo piccolo per la lancia capite bene che per la lancia mi servirebbe una cosa tipo che ne so un cervo però il cervo anche quello è difficile perché con una lancia non ce la fate a farlo fuori e di prima dovete ferirlo e poi con la lancia a finirlo tirandogliela sperando che muoia se no quello vi scappa voi perdete pure la lancia e poi ve la dovete rifare però insomma sono riuscito a cacciare qualcosa mi pare una volpe e l'ho anche già cucinata e me la sono anche già mangiata credo forse c'è ancora qui il pezzettino di carne siamo un po no forse non so già mangià vabbè comunque ragazzi con quelle piccole tipo volpe sono riuscito anche mi aveva attaccato un lupo maledizione e anche lì sono riuscito abbastanza a difendermi poi è successa una cosa strana in realtà in pratica io ho fatto avevo praticamente tipo salute 20 20 credo 20 su 100 e ho fatto il salto così praticamente così no e sono morto così saltando atterrando con il mio salto sono morto ed ero in piano e non è che ero qua quindi ero 20 0 non lo so quindi ragazzi non so non so che cacchio noi facciamo finta che sia andato tutto bene ma il problema è questo scusa poi ma io posso anche spostare tipo i muri le mura ma no vabbè ma le mura interna che cacchio ci fai con le finestre no le mura interne non hanno bisogno di finestre secondo me ok perfetto qua stiamo a posto qua vediamo di costruire anche questo bene e poi le porte quello le porte sarà il problema secondo me le porte non ce la faremo mai con le porte intanto la facciamo qua la porta ok prendi anche l'altro aggiungi i materiali intanto facciamo i telai poi le ma è al contrario no meno male no aspetta no è diversa è diversa diversa sì sì ma però lì c'è una croce che qua non c'è vuoi vedere che io ho messo il muro al contrario eh mi sa di sì ma porca e niente ragazzi mi dispiace ma dobbiamo per forza rimuoverla eh sì perché no va bene tutto ma la porta al contrario assolutamente no e però io adesso ma vuoi vedere che la rimetto ancora al contrario perché non ne ho idea di come cacchio cioè non me la fa vedere in realtà secondo me va bene così però c'è adesso che non va all'asse non ti piace non gli piace l'asse ma porcaccio 2 ok la mente adesso sta cacchio di porta please allora ecco adesso me la è così forse no non so se c'è io non mi sono solo arretrato e non ho fatto assolutamente niente di ok le assi ce le abbiamo messe i tronchi adesso ne abbiamo sprecati un po ma vabbè ragazzi andiamo a rifarli allora ma cosa 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 questo qualcosa per terra che luce che tipo di bianco non è che ah guardate la tanto queste cose spavano a caso qua abbiamo un melone all'ha preso no eh posso raccoglierlo eh ok un melone e qua abbiamo un cetriolo che raccogliamo assolutamente sì e va bene intanto tagliamo questo allora poi ragazzi sto cercando di liberare un po' la zona qui ma io volevo andare a caccia caccia porcaccia però vedete che sti cacchio forse c'era anche il portatronchi da fare però non lo so però bisogna vedere quanto cacchio abbiamo di proteine servirebbero le proteine servono le proteine manco fossimo belli grills e noi abbiamo trovato della frutta quindi le proteine non c'è stanno giusto la frutta non contiene proteine no no quindi dovremmo cercare di magnarci della roba di là vedere se riusciamo a metterlo giù qua da qualche parte sto no non volevo costruirlo vabbè va bene ah lì c'è un piccione vedete e io ci provo ma piccione con la lancia c'è oddio la lancia dove cazzo è la mia lancia allora aspetta un attimo posso cucciarmi e fare finta che il pollo piccionato qui non sia vai si vabbè ma c'è la tira dritta per dritta porca miseria il piccione era qua mo adesso va te la pesca dove cacchio eccola qua c'è gli dovevo mirare dritto io pensavo facessi un po' di parabola no sta cacchio di cosa mo adesso è sparito nella foresta vabbè dai sti cacchi ancora pianta di mais e vabbè se cose respawnano a me fa piacere eccolo ma adesso mi freghi dritto per dritto ma tac è certo mamma mia ma che lancia c'ha sto tizio c'è ma che vabbè allora è stato un po' abbondante ho detto vabbè c'è un po' di parabola la farà la lancia no e invece no assolutamente no c'è la lancia è tipo un proiettile praticamente che noi andiamo a scagliare contro qualsiasi cosa allora mettiamoli qua chi è che vabbè vedrete come chi fa bene a pecora eh ma dov'è sta pecora eccola la all'ultima volta la pecora abbiamo visto che riuscivamo a corrergli dietro vero alla pecora se io riesco a dargli due tre lanciate e poi tirargli la lancia ma vaffanculo pecora scusa ti faccio il giro di qua perché io voglio che tu mi scappi vedi da un lato che a me ok ok fermi tutti che il mio vigore ne risente dai 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 sono indietro brava brava bravissima aspetta fermati lì non correre più che io recupero grande 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 ok recuperiamo recuperiamo raga recuperiamo dai 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 presa yes si raccogli ship yeah vabbè un po' di roba da mangiare adesso ce l'abbiamo no io voglio andare a caccia ma la caccia è venuta da me no vabbè il cer il ho sentito un cervo tipo un come si chiama si una specie di cervo ah vabbè scusa prendo sto carretto e me lo porto la da ma ce n'è un'altra c'è un altro piccione ma che oh finalmente guarda qua mamma mia i proiettili c'è secondo me gabbiano secondo me ah hai visto gabbiano grande allora vabbè un po' di proteine adesso ce l'abbiamo no perché no come se abbiamo sterminato il mondo ma comunque secondo me se io sto qua cioè il pranzo viene da me ma vediamo allora altri tre e mo basta vero oh ci credo neanche a uno vabbè tagliamo questo raga il vigore adesso recuperiamo un po' perché lo stiamo stremando sto povero Cristo andiamo anche a cucinare qualcosa ma vediamo cosa possiamo craftare però per cucinare la roba perché so che possiamo tipo arrostirla direttamente sul fuoco ma possiamo vabbè senti mettili giù ma mettili giù qua ma che ti frega ecco e poi vorrei anche cercare di fare la porta della stanza la porta la porta la porta di legno ah solo con le assi si fa perfetto e aspetta così la dobbiamo mettere così è dritta e così no io voglio quella da interno c'è quella da porta da interno sono tutte uguali vediamo un po' se c'è la porta porta di legno porta di vetro eh vabbè da interno quella di vetro sarebbe proprio l'ideale secondo me no guarda qua il telegramo della porta in vetro ma dai ma come cacchio faccio a non fare la porta in vetro so che ora che la facciamo raga secondo me no c'è solo questa io non ne vedo altre allora vabbè mettiamoci questa e ma si può mettere eh vabbè io non ne ho viste altre comunque allora solo assi ti darà forza di grinta volontà ah beh non ce n'abbiamo più di assi di assi cioè abbiamo l'inventario praticamente pieno perché la pelle ci ha riempito praticamente tutto si può stoccare yes anche l'osso per favore stoccamelo qui ok questi qua questi non ci staranno mai vabbè eh abbiamo meno spazio però prendiamo le assi dai ok ah stiamo pesanti vero incredibile e vabbè facciamo anche così perché se no la porta non porteggia allora tac eh sì 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 siamo parecchio pesanti allora altre quattro qui quanto ne manca e qua ne manca una però io non cioè sto carico pallettoni col peso vabbè ragazzi portiamocene il più possibile e poi il peso ci guardiamo eh vabbè ci stiamo muovendo con la velocità di sapete no è un criceto con problemi di osteoporosi ok perfetto si apre all'esterno questa si apre all'esterno molto bene però se noi facciamo così la si apre all'interno no sempre all'esterno la porta perfetto ora apriamo questa ragazzi poi devo cercare di spostare questa fuggina qua e buttarla qua dentro allora la mettiamo ma non capisco come sia dritta credo così la mettiamo qua per il momento scusa puoi metterla grazie e anche questo tipo l'incudine vedete io l'incudine la metterei qua no guarda che bello guarda come ci sta bene qua l'incudine e che incudine ho sentito grugnire ma mi carica se io lo lancio quel co però c'è il piccione io il piccione e tanto la lancia ho visto che fa tipo fa tipo da proiettile eh però qua è un problema perché il piccione non è che spiccioneggia gabbiano lì come si chiama però in mezzo la vegetazione è difficile non lo vedo è troppo piccolo invece quello lancia i cosi piccoli allora se stanno così le cose cioè se lui è al lancio del proiettile eh eh allora è tutta un'altra cosa allora le mettiamo qua sotto la finestra non vorrei mai che mi prendesse fuoco qualcosa poi n ah rimuovi gli oggetti della cucina scusa che è sta roba ah c'è lo del ferro qua vabbè poi la spostiamo ah beh il ferro pesa avrà un botto vabbè poi comunque lo rimettiamo su nella cucina al ferro e vorrei anche andare a cucina qualcosa vai eh scusate li puoi rimettere qua e così mi liberi un po' di posto poi vediamo ragazzi di farci l'arco allora per cucinare delle cose eh niente caccia ragazzi in questo episodio vorrei caccia la miseria voglio andare caccia vabbè cioè la caccia è venuta da noi alla fine trappola a punta no ehm cibo e bevande no ma per craftarle tipo tipo una griglia si può fare armature vestiti ah si può fare la lattina barattolo vuoto cosa è questa qua padella utilizzabile per cucinare sulla stufa ok quindi dobbiamo cercare di farci la stufa giusto dove alimento ah ah però c'è la tecnologia vabbè quindi per il momento credo che ci dobbiamo quindi anche qua tecnologia no il lavandino no in realtà fornisce acqua pulita il lavandino lingotto di rame chiodo lingotto di alluminio vabbè poi ci penseremo banco d'alimenti che cosa fa banco per alimenti tronco asse e chiodo io ragazzi sto banco per alimenti quasi quasi cioè proverei a farmelo non so che cacchio serva ma nel dubbio me lo faccio banco per alimenti magari ci possiamo preparare qualcosa eh sì ho messo per annullare su tab con l'inventario cioè il gioco mi dà di default che per annullare serve tab però io ho messo l'inventario su tab quindi ogni volta che annullo si apre l'inventario devo trovare una soluzione anche qua adesso perché sono andati in conflitto un po' i tasti allora accendiamo sto coso e per il momento vediamo di ok e andiamo cucinarci ma non avevo di più di carne scusatemi ma così poca ne ho presa pensavo che il cerbiatto lì me ne dasse un po' di più no vabbè se sta così abbiamo un problema vabbè i carboidrati cosa è questo qua? mais il mais così ce lo mangiamo ci dà no 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 ci dà il melone ci mangiamo ok il melone si ci dà un po' di carboidrati un po' di vitamine i grassi invece no non so dove li vado a trovare ma penso dalla carne i grassi no cioè a questo punto cioè i grassi saranno dalla carne centriolo no ah scade anche vabbè ma tra un'ora c'è di tempo reale e vabbè ah la cipolla invece tra 17 minuti e allora la cipolla che ne so me la mangio così e vabbè poi viene un po' di sete però noi beviamo qua aspetta che vado a riempire anche qui di acqua pulita così almeno quando ecco 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 quando poi io mangio la carne mi viene sete eh giusto quindi mangia e che cazzo sì vabbè mangiate ancora sì infatti mi da anche i grassi quindi bevi e devo assolutamente spegnere sto coso e mi vado sì sì spegne il fuoco voglio cucinare consumare allora probabilmente dopo qua ragazzi si va acqua sporca si andrà sicuramente adesso vado a bollire un po' di acqua però nel frattempo lo spengo e ce la metto dentro così devo fare un po' di viaggi perché so che si può sbloccare una torcia sì una torcia una borraccia un po' più grande che vi permette penso con un giro solo di riempire tutto il secchio però devo vedere se è possibile farla la borraccia più grande in realtà non penso a sto punto che si possa fare vabbè ragazzi purtroppo come sappiamo per adesso un po' di acqua ce la bolliamo ah ok giustamente un po' di acqua adesso ce la bolliamo e vediamo se riusciamo a fare tutto sto bel po' di cose eh scusa ah no scusa così perfetto spiegare il fuoco sì esattamente spiegare il fuoco e aggiungi qua e questa qua invece la svuotiamo e adesso facciamo accendi fuoco ok e ci bolliamo un po' quest'acqua qui giusto una volta che è bollita noi ci spegniamo il fuoco ah no aspetta però per spegnare il fuoco ho buttato via l'acqua ok il problema è quello eh ho buttato via l'acqua perdonatemi ok manca poco tanto ok acqua pulita questa però la buttiamo adesso perché non vorrei bere roba che può star male e la riempiamo con acqua pulita no così ok perfetto e stiamo a posto adesso ragazzi qua io ci vorrei andare a costruire il tetto qui cos'è tronco 2 asse 2 chiodo i chiodi ragazzi si facevano con eh dammi il libro eh articolpedia oggetti in massa i chiodi con il lingotto di ferro mi fa 5 chiodi crea su un incudine l'incudine ce l'abbiamo il lingotto di ferro no però eh il lingotto di ferro mi serve la pietra fammi vedere se ce l'ho ma non penso vediamo 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 no c'ho questi eh forse però ne posso fare uno ma non credo che sia sufficiente eh allora eh accendi con l'accendino qua aspetta però oh cazzo è un orso aspetta no c'è l'orso fermi no l'orso non mi piace orso ho sentito l'orso eccolo l'orso però come carica orso ciao addio mamma mia aspetta ma può arrivareci fin qua oh che incazzoso però se io l'orso lo lancio guarda che non riesco a raccogliere la lancia poi l'orso bella madonna orso mi ha tolto metà salute l'orso scusa orso verrà che vabbè ma sono deficienti sti orsi scusate mamma mia l'orso cosa mi ha dato un fottiglione di carne mi ha dato l'orso avete visto quanto cacchio sto pesante eh sì perché abbiamo un botto di cibo eh l'orso buono però abbastanza pericolosetto noi come stiamo messi aspettate ragazzi che devo andare a vedere qua no non c'è neanche fatto niente grandissimo ma intanto mi vado a preparare la carne qui la vado un attimo a mettere giù raga perché accidenti stiamo pesantissimi esatto allora una due tre e quattro quanto peso stiamo adesso boh è 47 io non capisco che altro ho vabbè no 47 va bene qui credo che mi abbia tolto spostandole tutto il mio il mio fuel quindi facciamo così e andiamo a fare quello che volevamo fare prima tac no la devi accendere ah non si può perché piove ma porca tro mi serve un tetto muro 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 se no il tetto però ecco il soffitto di lì ecco hai capito no qui è qui almeno almeno vabbè per adesso mettiamoli tutti poi non di là ok ma me l'ha messo anche di qua yes perfetto ehm ganch questo no bene e bene aggiungi i materiali aggiungi un po' di assi ok qua prima che despawni sta roba scusate io me la vorrei prendere anche le ossa perché penso che ci possa fare la lancia d'osso e con la lancia d'osso posso andare a fare la lancia più performante secondo me poi queste robe qua vediamo ragazzi qua c'ho dei semi che prima o poi mi serviranno sti semi semi di mais semi semi di mais vabbè mettiamoli giù e per fare il tetto cosa serve anche e i tronchi madonna i tronchi madonna tronchi madonna tronca allora tac e qui stiamo finendo le assi però vero vabbè per il momento ragazzi proviamo a metterci queste assi poi vediamo con i tronchi che cacchio non c'è mio spazio nello zaino cacchio ma 50 giusti arriviamo scusatemi allora giusti i materiali perfetto asse 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 io avevo già messo le assi qua saprei e niente le abbiamo finite raga perfetto abbiamo finito le assi asse 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 abbiamo finito le assi raga secondo me ma giusti mi dite allora vorrei cercare di finire il tetto perché qua piove non riesco a accendere la fornace che se lo lasciamo dov'era almeno era riparata e quindi non si spegneva però purtroppo adesso merda non posso saltare ci devo fare una rampa qua sul serio o devo fare il giro o fare una rampa uno dei due facciamo il giro qui ok posso accenderla adesso o ci piove ancora su mi sono prurito il naso ragazzi allora tac ma una minchia allora dai e dai e perfetto raccogli sti tronchi dai almeno la baracca qui adesso lo accendi o la vai posso accenderla per favore please dio si è lavato ok e prendiamo anche questi questi qua vediamo se riusciamo a fare un lengottone quattro ne servono giusto no ne servono cinque mi sa vabbè mettiamo a sciogliere sta roba si questa si scioglie quando si è sciolto mi farà un pezzo di ferro lo metterò qua e poi a parte che potrei anche accendere questa e velocizzare un po' il processo vero si il problema è che poi la pietra non ce l'ho più ma vabbè e ok ragazzi aspettiamo che qua si faccia qui cosa serve altri tronchi e vabbè mi piglia bene il culo e altre assi a questo punto giusto per adesso ragazzi lascio giù il carretto anche se probabilmente dovrei fare un carico e portarlo là perché le assi non ce le ho più proviamo a fare quel banco lì a vedere se mi serve per qualcosa per alimenti non so che cavolo che cavolo mi mi serve forse per craftare robe ah non lo so per craftare dei cibi forse una volta che abbiamo gli ingredienti secondo me si 10 assi vuole questo aspetta vabbè comunque adesso che noi abbiamo costruito praticamente la tettoia vedete che non piove più e va bene ragazzi è pienso di un po' lunghetto questo però c'è purtroppo non vorrei tagliare niente di questo video perdonate se per la lunghezza insomma ragazzi nel caso stoppatelo riprendetelo più avanti perché capisco che possa risultare snervante i video lunghi soprattutto quando durano più di mezz'ora qua siamo oltre ai 35 minuti no basta basta aspetta ah volevo almeno finire la casa cacchio allora qua finiamo la casa esatto e ho voglia qua spero anche 2 su 3 una minchia allora questo albero qua dovrebbe darmi un po' di più perché è più grosso è fuori dalla mia zona di alberi giganti e prepotenti della morte vai giù ecco qua e raccogliamo li mettiamo giù qua raccogliamo mettiamo giù qua raccogli metti giù raccogli metti giù e tagliamo anche uno piccolo vediamo la mia asce è duri 1 2 3 al volo grazie perfetto quindi uno grande uno piccolo facciamo un carico pieno ok tagliamo giù qua puoi prendere per favore questi tronchi ok va bene va bene va bene dai va bene ok yes finita ragazzi almeno la nostra casozza qui ci sta ok questo lo possiamo anche buttare giù qua tranquilli ah ce ne sono poco vabbè ma quanto cacchio li avevo messi vabbè comunque mi ritornano utili io faccio così adesso devo fare ste assi ok ultima cosa ragazzi poi ci salutiamo vediamo almeno di mettere le assi lì per per il tavolo vediamo se riusciamo vediamo se riusciamo vediamo quante ne servono però così poi mancano solo i chiodi prendi anche l'altro va almeno in casa puliamo non ci rimane niente aspetto quindi le assi prendi le assi e we go molto bene qua come stiamo messi abbiamo finito yes fondimi sta roba grazie e questa me la prendo ragazzi e poi ah no questi me li prendo e i sassetti poi per adesso me li tengo anzi mettili giù qua aspetta questa mi ti leggo qua questa sarà quella che mi fa i lingottacchi e poi devo andare a vedere sull'incudine se riesco a fare 10 chiodi ma non penso di fare 10 chiodi ce ne faccio 5 ragazzi invece di 10 vabbè ci saluteremo qua e poi vedremo la prossima volta cioè la vedremo completata la prossima volta perché vabbè comunque lì le assi ci sono già no cioè io qua ho finito però anche io ho finito no mancano solo i chiodi vediamo se riesco a fare basti chiodi ragazzi e niente poi come detto nel prossimo episodio allora andiamo visto che abbiamo un po' di cibari qua possiamo mangiare un pelo possiamo provare a andare a vedere ma avete detto ci sono dei villaggi dei villaggi vedi qua tipo qua qui ma sono lontanissimi vabbè tipo qua non so se possono mettere wave point non credo questa è la posizione carro posizione giocatore e credo che siano questi vedete non si può zoomare ragazzi la mano però 1 2 3 4 5 dovrebbe essere 6 1 2 3 4 5 6 6 e quindi qua ci dovrebbe essere tipo dei villaggi potremmo andare a vedere in questo villaggio qua e poi ci sono vedete delle grotte che anche qua sarebbe da esplorare a parte che credo che ne abbiamo una qui di grotta vero? qua c'è una grotta però io non so come cacchio arrivarci magari ste grotte ma vaffan magari ste grotte andiamo a vedere è questa? una grotta un po' più di qua non capisco se c'è un buco per terra o no alla the forest tipo no e io sono sicuro che la grotta è qua però forse è qui sotto sto sasso eccola a cazzo mi sono fatto male porca miseria avete visto? cioè i danni da caduta sono sono che cazzo di danni sono? eh magnatice triolo parca miseria ma abbiamo sete cosa è che abbiamo che stiamo malissimo qua la salute sete proteine vabbè poi ci andremo a vedere qua ragazzi parca miseria poi andremo a vedere qua sta grotta avete visto? cioè non è possibile c'è sta cosa che eh sono due centimetri ho fatto sto cacchio di saltino ma questo ci muore cioè ho perso praticamente tutta la vita sono cattivissimi quei danni da caduta su sto gioco bene quindi ragazzi allora facciamo così io da questo momento vi saluto qui anche perché se no ragazzi veramente andiamo troppo per le lunghe quindi fatemi sapere la vostra nei commenti ricordatevi di lasciare like commenti condivisioni qua sotto e niente noi ci vediamo come detto alla prossima non so che fare questa roba quindi oh grazie a tutti ci vediamo alla prossima ciao raga ciao